Siamo le mani Settacolare ragazzi Sulle mani Lo sai come si dice a Torino al Superstar? Si dice così A sedere chi non sa stare Noi siamo viaggiatori e viaggiatrici Superstar Viviamo di tendenza La nostra unica scienza Le mani al cielo caro e tu A sedere A sedere Facciamo sentire l'urlo Vai taggarla Noi siamo viaggiatori e viaggiatrici Superstar Si cambia! Ancora più forte ragazzi! Ehi, un bel saluto da questa parte che facciamo il video ragazzi, dai, tutti! Precomposto, bello! E sono pieni di difensi, noi siamo viaggiatori e viaggiatrici, superclare! Divino la presenza, la gastronica scienza! Mi basta! Cosmi, 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 andai! Ancora una volta, dai! E ragazzi, un bel saluto per gli amici di Radio M2O, tutti, vai! Nuro! Questa è parato ragazzi, vai! Piccolo, sei composto, sei composto! Sei composto! Sì, ma c'è un problema che non sento l'urlo! Mi basta! A me sì! Ok, gran finale tutti al centro! E lei, tutti, tutti! In piedi, in piedi, in piedi, in piedi! Un po' nelle casse! Robo Vallo!